Siamo gli Aguirotti 4x4, un club di fuoristradisti di Arpito in provincia di Frosinone ma oggi abbiamo pensato di fare qualcosa per le persone qui presenti al campo abbiamo pensato di portare qui dei parrucchieri in maniera tale da poter assistere la popolazione anche nella cura personale abbiamo portato con noi 4 parrucchieri e adesso stiamo allestendo una postazione per assistere la popolazione nella pulizia e nell'igiene personale dei capelli possiamo rivolgere il servizio sia agli uomini che alle donne siamo in 10 perché 4 sono gli operatori specializzati ma gli altri possono benissimo dare una mano e aiutare gli operatori specializzati